buonasera buonasera a tutti e benvenuti a questo quarto appuntamento degli spazi rari mito con di quest'anno gli spazi rari sono un programma di webinar mensili organizzati da mito con per le persone affette da una malattia mitocondriale e per le loro famiglie per incontrarsi con con esperti confrontarsi avere informazioni utili per affrontare il difficile percorso con con la malattia per chi non ci conosce mito con è un'associazione di volontariato che riunisce le persone affette da una malattia mitocondriale e le loro famiglie e fa anche da raccordo con la comunità scientifica che eh in Italia ma anche all'estero si occupa di queste patologie nel webinar di questa sera chiedo vi chiedo di ehm disattivare i microfoni grazie e nel webinar di questa sera parleremo degli aspetti eh clinici legali assistenziali delle neuropatie ottiche ereditarie di origine eh mitocondriale e lo faremo insieme alla dottoressa eh Chiara Lamorgia neurologa dell'IRCS istituto delle scienze neurologiche di Bologna ospedale Bellaria a Paola Morandi che è rappresentante dei pazienti con malattie mitocondriali della vista per mitocon e al professor Filippo Cruciani che è direttore responsabile della seconda clinica oculistica unità operativa complessa di oftalmologia dell'azienda ospedaliera universitaria policlinico Umberto I di Roma e che ringrazio per per essere qui con noi. Ringrazio anche le dottoresse eh Maria Lucia Cascavilla responsabile del servizio di neuroftalmologia ed elettrofisiologia oculare dell'ospedale San Raffaele di Milano e la dottoressa Anna Maria De Negri responsabile dell'ambulatorio di neuroftalmologia dell'ospedale San Camillo Forralini di Roma che sono qui con noi questa sera per rispondere alle vostre domande nella seconda parte del webinar. Più tardi dovrebbe collegarsi anche il professor Valerio Carelli, direttore del programma di neurogenetica dell'IRS e delle scienze neurologiche di Bologna ospedale Bellaria e ehm dovrebbe essere presente anche Mario Barbuto, presidente dell'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti. La prima parte del webinar sarà come sempre dedicata agli interventi dei relatori mentre nella seconda parte daremo spazio alle domande. Vi ricordo di eh tenere i microfoni spenti e che è vietato registrare eh diffondere i contenuti di questo webinar. Gli interventi dei relatori saranno registrati e saranno successivamente resi disponibili sul canale YouTube e sul sito di eh mitocon. Passerei subito la parola alla dottoressa Lamorgia per il primo intervento. Buon pomeriggio a tutti e grazie mille per l'invito a partecipare a questo interessante evento. Allora il mio compito oggi è quello di parlarvi eh degli aspetti clinici diagnostici e terapeutici di follow up dei pazienti affetti da neuropatia ottica ereditaria e mitocondriali. Quindi la presentazione sarà concentrata fondamentalmente su eh la Leber ehm e l'atrofia ottica dominante. Allora come noi sappiamo queste due patologie sono accomunate eh da una caratteristica principale che è eh il fatto che venga a essere colpito eh il nervo ottico con conseguente atrofia e ipovisione che ne deriva. Il motivo per cui il nervo ottico è particolarmente vulnerabile in queste due malattie deriva dalle caratteristiche delle cellule ganglionari della retina. Queste cellule infatti che costituiscono l'ultimo strato retinico hanno una struttura che le rende particolarmente vulnerabili al danno mitocondriale. Questo è dovuto al fatto che queste fibre nervose hanno una prima porzione che è amielinica e una seconda porzione dopo la lamina cribrosa che è eh avvolta dalla mielina. Questa organizzazione diciamo sbilanciata fa sì che sia le mutazioni del DNA mitocondriale che causano la Leber che la mutazione in OPA1 che causa l'atrofia ottica dominante le rendano molto sensibili al danno mitocondriale. Allora parliamo prima di tutto della neuropatia ottica ereditaria di Leber che è una malattia genetica dovuta a mutazioni del DNA mitocondriale. Qui vediamo che le tre mutazioni responsabili del 90-95% dei casi sono qui riportate. Sono quindi la 11778 che è la più frequente, la 3460 e la 14484. Clinicamente il paziente presenta una perdita acuta della visione centrale e in questa patologia sappiamo che c'è una prevalenza del genere maschile. Si stima che in generale poi con qualche differenza a seconda della mutazione il rapporto maschi e femmine è circa 5 a 1. Un altro concetto molto importante è la penetranza variabile. Che cosa significa questo? Che pur portando la mutazione quindi in famiglie molto grandi in cui molte persone presentano il difetto genetico non tutte ovviamente anzi una minoranza di esse manifesterà la malattia. E si stima che questa probabilità di ammalarsi sia circa il 50% in realtà un po' più bassa nei maschi e circa il 10% nelle femmine. Il picco di incidenza di questa malattia è di solito tra i 15 e i 30 anni anche se ci sono numerose eccezioni a questa regola nel senso che è possibile ammalarsi anche in età pediatrica ed è possibile ammalarsi anche fino a 80 anni e questi soggetti che si ammalano più tardivamente nella maggior parte dei casi sono fumatori. Ci sono dei fattori di prognosi positiva che sono il fatto di ammalarsi da bambini, il fatto di avere la mutazione 14484 e il fatto di avere alcune caratteristiche del disco ottico che rendono più probabile il recupero. Quindi come abbiamo detto qui siamo di fronte a delle malattie che colpiscono il nervo ottico e in particolare c'è questo fascio di fibre che va dal nervo ottico alla macula che è il fascio papillo maculare il quale è il... credo ci sia qualche microfono acceso. Sì. Fermo un attimo. Dicevo quindi il fascio papillo maculare che è quello che risulta essere più sensibile al danno mitocondriale. Abbiamo detto che questa malattia è dovuta a mutazioni del DNA mitocondriale. Ora la questione principale per questo tipo di difetti genetici è che a differenza di come vedremo per l'atrofia ottica dominante in cui abbiamo delle regole di genetica mendeliana, quindi autosomica dominante, qui la trasmissione del difetto genetico avviene esclusivamente lungo la linea materna, cioè solo le femmine portatrici del difetto genetico possono trasmetterlo alla progenie, quindi maschi portatori non lo trasmettono. Dal punto di vista clinico questa malattia ha delle caratteristiche oculistiche distinguibilissime. Alcune di queste caratteristiche le possiamo trovare anche nei portatori asintomatici del difetto genetico e infatti in alcuni di questi quello che possiamo vedere è un gonfiore delle fibre intorno alla testa del nervo ottico che poi nelle fasi che precedono l'esordio della malattia risulta essere più accentuato oltre che si osserva un'accentuazione della microangiopatia. Infatti nella fase subacuta della malattia, ossia quando il paziente comincia a manifestare i primi sintomi della malattia stessa, si osserva una perdita acuta subacuta della visione centrale con questo tipico difetto al campo visivo che è uno scotoma centrale e la malattia può presentarsi anche contemporaneamente nei due occhi e questo sistema avvenga in circa il 25-50% dei casi. Chi presenta la malattia all'inizio in un occhio solo tendenzialmente avrà poi il secondo occhio colpito dalla malattia di solito entro un mese dall'esordio. Ci sono però descritti anche intervalli più lunghi e rarissimi casi anche che rimangono unilaterali. Dal punto di vista dell'oftalmologo, nel neurologo che quindi vedono il paziente all'esordio della malattia, quello che vediamo, come dicevo prima, è un aumento della tortosità dei vasi, quindi della microangiopatia, e un aumento del gonfiore delle fibre intorno alla testa del nervo ottico, che viene definito in termini medici, tecnici, pseudo edema. Man mano che la malattia si sviluppa, il nervo ottico va incontro a un'atrofia, diventa cioè pallido. Quello che si osserva è un pallore che prima coinvolge la regione temporale del nervo ottico, che sto evidenziando qui, e poi tende ad essere diffuso a tutto il nervo ottico, man mano che la malattia progredisce. È possibile che alcuni pazienti presentino un recupero visivo, anche se nella maggior parte dei casi questo recupero non è mai totale, e questa percentuale di recupero risulta essere, come dicevo prima, particolarmente elevata, più elevata nei pazienti che hanno la mutazione 14484, e il recupero può manifestarsi a un intervallo variabile rispetto all'esordio della malattia. Allora, uno strumento dal punto di vista diagnostico, ma anche del follow up di questi pazienti che ci è venuto molto incontro in questi anni, si chiama OCT. L'OCT è una tomografia a coerenza ottica che permette di fare una sorta di sequenza intorno alla testa del nervo ottico e quindi di misurare lo spessore delle fibre del nervo ottico che vengono come srotolate in questa immagine qui, e noi possiamo nel tempo quindi capire quali sono i settori del nervo ottico che vanno incontro ad atrofia e seguirli nel tempo. E quindi questo è un dato numerico molto importante perché chi tendenzialmente, chi mantiene maggiori maggior numero di fibre nel decorso della malattia ha anche maggiore probabilità di recupero. E infatti in questi anni l'uso dell'OCT ci ha permesso proprio di riconoscere alcune fasi della malattia che sono assolutamente diciamo tipiche della neuropatia ottica di Leber, per cui i primi settori che si gonfiano sono il settore temporale e inferiore, questi vengono poi seguiti dal settore superiore ed infine c'è il coinvolgimento del settore nasale, quindi c'è un rigonfiamento che avviene sequenzialmente in questi quattro settori i quali saranno poi quelli che vanno incontro ad atrofia con la stessa identica sequenza. Dal punto di vista del difetto del campo visivo vedete che si passa da una situazione in cui osserviamo solo un difetto nella regione centrale del campo visivo, il difetto poi diventa sempre più ampio fino a diventare un difetto generalizzato. Quando il clinico, quindi l'oculista o il neurologo che vedono il paziente sospetta sulla base di queste caratteristiche che ho appena enunciato una neuropatia ottica di Leber, la prima cosa da fare, specie se vi è una familiarità per perdite acute del visus e richiedere la ricerca delle tre mutazioni più frequenti del DNA mitocondriale che sono quelle che vi ho indicato all'inizio della presentazione. Tuttavia, siccome ci sono delle mutazioni un po' più rare che sono circa il 10% dei casi, se il sospetto clinico è molto forte e questo ovviamente solo il medico che vede il paziente lo può determinare, bisogna procedere con la sequenza completa del DNA mitocondriale che si preferisce fare da urine perché in questo tessuto la ricerca della mutazione risulta essere più attendibile. Questo riguarda soprattutto gli adulti mentre per i bambini ci si può diciamo accontentare del sangue. Dal punto di vista terapeutico in questi anni si sono fatti degli importanti sviluppi in termini di opzioni terapeutiche, nel senso che per una malattia che fino a qualche anno fa non aveva delle opzioni terapeutiche, quello che abbiamo adesso a disposizione è una molecola che è stata approvata per la Leber e la cui approvazione risale al 2015 ed è allo stato attuale l'unica malattia mitocondriale per la quale esista una terapia approvata. Questa terapia è stata il risultato di ovviamente trials clinici controllati che sono stati avviati ovviamente negli anni precedenti all'approvazione dell'idebenone, è una storia che inizia nel 2005 da questo punto di vista e il farmaco che è l'idebenone risulta essere efficace nel correggere quello che è il difetto del complesso 1 della catena respiratoria dei mitocondri in quanto bypassa attraverso, quindi trasportando gli elettroni dal primo al terzo, quello che è il difetto tipico della neuropatia ottica di Leber. Questo farmaco è attualmente prescrivibile in Italia gratuitamente grazie alle regole delle malattie rare e può essere prescritto con apposita scheda AIFA in pazienti di età superiore a 14 anni che abbiano una durata di malattia inferiore a un anno. I risultati sia del nostro lavoro retrospettivo ma anche poi della sperimentazione clinica che ha condotto poi all'approvazione di questa terapia fanno vedere come all'aumentare della durata del trattamento aumenta la probabilità del recupero e rispetto ai pazienti non trattati si stima che ci sia circa un raddoppiamento della probabilità di recuperare una parte della funzione visiva. Per questo motivo si è svolta una consensus tra medici che si occupano di questo tipo di patologie in occasione della quale quindi si è convenuto che il trattamento debba essere iniziato il prima possibile a un dosaggio di 900 mg al giorno che corrisponde a 6 compresse in pazienti quindi come dicevo che abbiano una durata di malattia inferiore a un anno e debba essere proseguito per almeno un anno. La terapia quindi viene proseguita fino a che non si raggiunge la stabilità clinica cioè se il paziente risulta non avere un ulteriore miglioramento dopo due controlli semestrali consecutivi la terapia viene discontinuata. Successivamente all'approvazione ci sono stati poi dei studi post autorizzazione che hanno coinvolto diversi centri in Europa e anche i centri in Italia al termine dei quali quindi è stato possibile diciamo confermare quello che era emerso già dai studi dagli studi precedenti ossia che anche trattando quindi pazienti che avevano una durata leggermente superiore di malattia si osservava un beneficio del trattamento rispetto ai pazienti non trattati così come si confermava anche la relativa sicurezza di questo farmaco cioè un profilo di safety piuttosto buono. L'altra opzione di terapia che risulta essere quella più recente di più recente studio applicazione riguarda la terapia genica nella Leber. Questo approccio consiste sostanzialmente di una iniezione intravitreale dentro l'occhio del paziente che viene effettuata una singola volta in questo caso si utilizza un vettore virale all'interno del quale viene inserito la subunità ND4 che è quella codificata dalla mutazione 11778 questa subunità ND4 quindi non mutata viene importata nei mitocondri e quindi va a correggere il difetto che ha la base della mutazione della neuropatia ottica di Leber associata alla mutazione 11778. Questa sperimentazione clinica ha coinvolto diversi centri e in particolare la Francia, la Florida e dei gruppi in Cina. Fondamentalmente sono stati condotti degli studi di fase 3 controllati in doppio cieco sponsorizzati in questo caso dalla Ginsight che hanno coinvolto nei primi due trials che si chiamano Rescue e Reverse che hanno comunque coinvolto pazienti con durata di malattia inferiore a un anno. Sono stati reclutati 76 pazienti negli Stati Uniti e in Europa. Per quanto riguarda l'Europa il centro reclutatore risultava essere quello nostro di Bologna. Allora vedete questi sono i risultati preliminari derivanti da questi due trials e rispetto a quella che è l'andamento tipico della storia naturale della malattia si osserva comunque un miglioramento significativo dell'acuità visiva che veniva a essere evidenziato nell'occhio iniettato anche nell'occhio controlaterale. Sulla base di questi risultati preliminari di cui poi c'è stata un'estensione col trial successivo in cui l'iniezione veniva fatta bilateralmente. La Ginsight ha quindi sottomesso questo pacchetto di risultati all'Agenzia Europea del Farmaco e attualmente la terapia genica è in corso di valutazione. Come dicevo dopo questi primi due trial che prevedevano l'iniezione in un occhio solo è stato effettuato un secondo trial di terapia genica con iniezione bilaterale il cui reclutamento è stato concluso a giugno del 2019. Allora venendo all'atrofia ottica dominante questa è una patologia come dicevo che dal punto di vista genetico si distingue dalla Leber per sia dal punto di vista clinico ma anche proprio per il tipo di ereditarietà nel senso che qui il portatore della mutazione ha il 50% di probabilità di trasmetterlo alla progenie indipendentemente dal fatto che sia maschio o femmina e a differenza della Leber che di solito ha un diciamo esordio molto tumultuoso questa malattia tipicamente inizia in età infantile ci si accorge del problema quando il bambino comincia andare a scuola e di solito ha un andamento molto più subdolo tanto che alcune volte i pazienti si accorgono di questo problema anche in età avanzata. L'aspetto però che accomuna queste due malattie è che in entrambi per quello che vi dicevo all'inizio c'è un danno selettivo del fascio papillo maculare quindi della regione temporale del nervo ottico per cui il paziente presenta la perdita della visione soprattutto al centro quindi hanno questo scotoma di tipo centrale. Dicevamo che il gene implicato in questo caso si chiama OPA1 ci sono tante mutazioni associate a questo gene e mutazioni del gene OPA1 coprono circa il 50 60 per cento dei casi di atrofia ottica dominante il che implica che ci sono altri geni più rari di cui non abbiamo tempo di trattare oggi che possono causare delle atrofie ottiche ereditarie. Dal punto di vista anche clinico un'altra caratteristica che va ricordata per questa malattia è che all'interno di una stessa famiglia noi possiamo avere casi più lievi e casi più gravi questo proprio perché si caratterizza da quella che è la penetranza incompleta. Qui vedete degli esempi di alberi genealogici di famiglie con atrofia ottica dominante e vediamo come il difetto genetico possa trasmettersi anche dal maschio ai figli a differenza di quanto avveniva nella Leber. Un'altra cosa che differenzia queste due patologie è che nella Leber in alcuni casi viene descritta la possibilità di un recupero parziale della vista questo non succede nell'atrofia ottica dominante quantomeno non sono riportati casi di recupero spontaneo. Dal punto di vista del fondo dell'occhio abbiamo sempre questo pallore sul lato temporale soprattutto ma che può essere anche un pallore diffuso e si osserva la presenza di questo scotoma centrale. Per quanto riguarda le opzioni terapeutiche nella trofia ottica dominante il farmaco che è stato oggetto di investigazione è l'idebenone che però non risulta essere approvato per questa patologia e abbiamo recentemente pubblicato questo lavoro in cui si evidenzia come questa terapia possa in un sottogruppo di pazienti aumentare la probabilità di stabilizzazione recupero dell'acuità visiva nei pazienti portatori dell'effetto genetico. Attualmente proprio perché come dicevo questo farmaco però non è approvato per l'atrofia ottica dominante l'utilizzo che viene fatto dai clinici è riservare questo tipo di terapia solo ai pazienti che presentano un peggioramento documentato negli ultimi anni a un dosaggio qui leggermente inferiore rispetto ai pazienti con la neuropatiottica di Leber la terapia andrebbe proseguita per almeno due anni e finché il paziente continua a migliorare. Ovviamente queste sono linee guida che sono state un po' convenute tra i clinici neurofetalmologi che si occupano di questa malattia tuttavia ricordiamo che al momento la prescrizione di questo farmaco è fuori indicazione terapeutica. Ultimissime slide riguardano le terapie più innovative che sono però ancora uno stadio un pochino indietro rispetto alla Leber sono quindi le opzioni di terapia genica che sono state valutate in modelli animali da questo gruppo francese e ci sono adesso dei lavori incoraggianti sempre in quest'ottica di possibili approcci di terapia genica che hanno riguardato anche modelli cellulari come le cellule staminali inducibili pluripotenti derivate dai fibroblasti dei pazienti. Ci sono delle possibilità di trials nei pazienti veri e propri ma sono ancora uno stadio al momento preclinico. Ultimissima diapositiva quindi è fondamentale dato che queste sono patologie croniche che quindi colpiscono in maniera importante la vita della persona per tutte le implicazioni che la perdita visiva ha che ci sia oltre alla diagnosi genetica e clinica anche un appropriato counseling genetico per spiegare al paziente quelle che sono le implicazioni a scopo procreativo un supporto anche psicologico l'importanza anche delle degli ausili per l'ipovisione ci sono tutti i problemi di cui parleremo dopo del lavoro dell'invalidità e l'importanza anche che a livello regionale vengano messi diciamo in funzione dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali che possano supportare i pazienti in questo percorso spesso molto complesso e con numerosi momenti bassi. Dal punto di vista clinico i pazienti sono seguiti con dei controlli sia neurologici che oftalmologici che ovviamente nelle prime fasi della malattia questo eh riguarda soprattutto i labor eh che hanno un esordio come dicevo molto più tumultuoso saranno più ravvicinati poi tendono a diventare eh circa annuali e con questo direi che ho concluso e ringrazio tutti per l'attenzione. Volevo ringraziare tutti i colleghi e in particolare professor Carelli e tutti i colleghi oculisti dottor Carbonelli che lavora con me il dottor Barboni e la dottoressa Cascavilla e De Negri e tutti coloro che si occupano di queste eh malattie e grazie a voi. Grazie mille la dottoressa Lamorgia per questa interessante eh presentazione ehm è già arrivata una domanda risponderemo nella seconda parte del del web adesso passo la parola a Paola Morandi. Grazie grazie Valentina e grazie alla dottoressa Chiara Lamorgia per questa bellissima presentazione sono tanti anni che sento le presentazioni ogni volta mi sembra di trovare qualche cosa di nuovo soprattutto negli ultimi anni. Io credo che ognuno di noi abbia delle date che non si dimenticano mai come l'undici settembre no? Che è una data in cui ci troviamo sempre esattamente cosa stavamo facendo in quel momento. Il mio undici settembre in realtà era l'undici novembre di quasi trent'anni fa in cui ero soluta su un divano azzurro con mio figlio due anni che eh guardando un calendario scritto in grande i numeri apparivano uno uno c'era come una un disco bianco e piano piano questo disco non se ne voleva andare anzi mi sono accorta chiudendo l'occhio sinistro che questo disco diventava sempre più grande sempre più grande in che mi sono decisa di iniziare ad andare a fare qualche visita oculistica e nessuno capiva cosa mi stava succedendo. La prima diagnosi che ho avuta era di un tumore sul nervo acustico che mi stava e che quindi praticamente si era pesato un tumore al cervello quando finalmente ho avuto una risonanza magnetica tra tra le altre cose mi trovavo negli Stati Uniti per per il lavoro di mio marito in quel momento ma ho dovuto comunque aspettare sei settimane per una risonanza magnetica mi hanno detto che si erano sbagliati. La seconda diagnosi che ho ricevuto era di una possibile sclerosi multipla anche quella non era una cosa molto piacevole sono andata quindi ho deciso di cominciare ad andare in centri abbastanza famosi e seri negli Stati Uniti ce ne sono tanti e sono arrivata in un grande centro in North Carolina dove mi è stato diagnosticato un nervo cerebrale che però in realtà non avevo mai avuto quindi una cosa tipica che accade quando si è affetti da una malattia rara una malattia genetica è di ricevere svariate diagnosi spesso diagnosi errate e spesso pure sbagliate quando finalmente quest'altra data è una data che ricordo bene il 17 di maggio quindi quasi sette mesi dopo diciamo quella data dell'undici novembre ho avuto il risultato di un test genetico al John Hopkins Medical Center neuropatiotica ereditaria di Leber che per me era veramente come arabo non avevo mai sentito nulla del genere e la diagnosi fu signora lei sta diventando cieca si metta l'anima in pace qui ci sono collegate tante persone che sono soci dell'unione italiana dei ciechi quindi voi sapete bene che cosa vuol dire per chi non è nato diciamo già cieco cosa vuol dire per me cieco voleva dire entrare nel buio perché perché moltissime patologie che colpiscono persone affette da disabilità visiva in realtà entrano nel buio la maurosi congenita di Leber è un'altra patologia che è chiamata anche la malattia del buio in realtà questo tipo di disabilità visiva che 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 dà la neuropatiotica ereditaria di Leber questo non lo sapevo è che questa macchia grande che iniziava al centro si allargava sempre di più sempre di più finché dall'occhio destro ho perso praticamente tutto il campo visivo ed era luminoso io la notte vedevo questa luce questa grande luce in realtà non era una luce era questo buco luminoso che si era creato nel campo visivo causato dai danni che avevo le fibre del nervo ottico come descritto molto bene prima dalla dottoressa che aveva morgia non avrei mai pensato che anche lo occhio sarebbe stato colpito da questa malattia proprio perché non l'avevo mai sentita ed ero molto sola essere soli in quando si è colpiti da una malattia rara è una sensazione di di buio che non è buio nel senso ci si sente abbandonati a se stessi e passa la voglia di voler continuare a vivere è stato forse mio figlio piccolino che aveva solo due anni che aveva bisogno di me e mio marito a volermi far andare avanti e solo vent'anni dopo vent'anni dopo ho incontrato per la prima volta un altro paziente un'altra persona affetta dalla mia stessa malattia e come ci siamo guardati per modo di dire guardati ci siamo trovati siamo stati presentati dalla dottoressa de negri durante un evento che avevo organizzato per raccogliere fondi per le malattie mitocondriali per la neuropadiotica di leber ci siamo abbracciati siamo stati piangere perché abbiamo capito che insieme facevamo cose strane tipo attraversare la strada quando c'era qualcun altro che la attraversava e ci mettevamo magari a pochi centimetri da quella persona per essere più sicuri di attraversarla perché la beffa se vogliamo la cosa strana di una persona colpita da neuropadiotica di leber è che da fuori non sembra sembriamo normali tra virgolette imbranati perché perché gli occhi rimangono mobili riusciamo a muovere la pupilla ma di fronte a noi non vediamo nulla non siamo tutti uguali ognuno di noi viene colpito in modo diverso molti di noi hanno questo scotoma molto luminoso che non se ne va neanche nel buio molti di noi soffrono di fotofobia molti di noi hanno un residuo visivo periferico anche pieno di tante lucine lampeggianti questo per noi rende molto difficile quindi effettuare il campo visivo noi facciamo un campo visivo per i nostri clinici per avere un'idea di quello che riusciamo ancora a fare ma quando si tratta di andare poi a svolgere le nostre vis le visite nelle commissioni facciamo veramente fatica questo è uno dei motivi per cui oggi grazie a mito con l'associazione dei pazienti affetti da neuropadiotica di leber di atrosbiotica otosomica dominante e da altre patologie mitocondriali uno dei motivi per cui abbiamo voluto organizzare questo webinar oggi perché parliamo di aspetti clinici assistenziali e legali nella neuropadiotica di leber nella profia autosomica dominante la dove noi ci troviamo in difficoltà che cosa succede riceviamo una diagnosi tu paola sei affetta da neuropadiotica di leber ok ora cosa faccio magari sono una studentessa che vado a scuola magari sì molto probabilmente visto che i pazienti vengono colpiti nell'età tra i 15 ai 30 anni è molto probabile che siano ancora in età scolastica tutto ad un tratto non vedono più la lavagna non vedono più neanche il loro compagno di banco o compagno seduto vicino a loro non vedono più le cose essenziali da un momento all'altro perché quando prende il secondo occhio è impossibile andare avanti si può andare avanti si può fare riabilitazione ma ci vuole tempo e ci vuole qualcuno che ci accompagna a fare questo qui subentra l'associazione di pazienti la mitocon che ho trovato io circa 11 anni fa da allora poi sono diventata rappresentante dei pazienti per diventare rappresentante dei pazienti ho partecipato a molti corsi organizzati da Eurordis che è la federazione l'organizzazione europea di pazienti affetti da malattie rare che organizza tantissimi corsi veramente molto interessanti dalla summer school per pazienti esperti la leadership school la digital school di social media marketing e così via e questo ci aiuta veramente a ci mettiamo come oggi se vogliamo a parlare non solo di me ma parlare di tante persone tante realtà che vivono dalla mattina alla sera un ambiente che può essere come dicevo prima l'ambiente scolastico o l'ambiente di lavoro di solito i pazienti affetti da queste patologie perdono il lavoro si ritrovano da un momento all'altro a non poter più fare il lavoro che facevano prima nel gruppo abbiamo una persona che faceva la macellaia in un supermercato immaginate da un mese all'altro non vedi più non puoi certo metterti a tagliare delle fette di carne altrimenti rischi di tagliare qualcos'altro ma ci sono altri tipi di lavoro che si possono fare ma prima bisogna seguire un iter per imparare anche per questo oggi abbiamo voluto avere qui l'unione italiana dei ciechi e degli impovedenti perché l'unione spesso ha un ruolo dove accompagna solo che si rivolge all'unione molto spesso per avere assistenza negli ausili che sono disponibili perché ricordiamoci che una persona che ha visto fino al mese scorso non ha idea generalmente non ha idea che oggi la tecnologia ha fatto enormi passi avanti oggi possiamo leggere possiamo lavorare al computer ma vent'anni fa 15 anni fa anche non era assolutamente possibile utilizzare un computer se non si conosceva il braille e nonostante si conoscesse il braille non esistevano ancora quelle tecnologie se vogliamo che ci dava la possibilità di appartenere insieme agli altri a questo mondo quindi pari opportunità ugualianza diciamo i nostri diritti e poter continuare a studiare e lavorare quindi aspetti clinici assistenziali e legali perché perché molto spesso i nostri pazienti si rivolgono poi alle commissioni dell'IMSS e in prima visione vengono rifiutati nonostante abbiano le carte in regola qui anche per i nostri clinici è importante conoscere il linguaggio legale è giusto da scrivere nei certificati per poi che poi vanno presentate all'IMSS e questo porta un grande ruolo che ha avuto mito con finora insieme ai nostri esperti clinici che sono appunto di cui ha accennato prima la dottoressa la morgia i pdda che sono i percorsi diagnostici terapeutici assistenziali per la neuropadiotica di leber già due anni fa la regione lombardia ha pubblicato il primo pdda percorso diagnostico terapeutico assistenziale e ora la regione lazio proprio fresco fresco di questi giorni purtroppo il sito della salute lazio eh lo scorso anno alla fine dello scorso anno è stato attaccato da un hacker e quindi ci sono stati dei ritardi ma finalmente anche il pdda con il quale abbiamo lavorato tantissimo insieme alla dottoressa anna maria de negri dell'azienda ospedaliero san camillo che qui con noi oggi e insieme ad altri tre centri di riferimento nella capitale eh per poter sapere qual è l'iter che deve seguire un paziente una volta che riceve la diagnosi piano piano non saremo più soli piano piano verremo assistiti io non sono stata assistita da uno psicologo all'inizio della malattia pensavo di poter fare tutto da sola sono stata fortunata perché ho avuto vicino molti amici forse anche perché l'organizzazione allora in america era veramente grande perché da subito l'ospedale mi ha mandato un assistente sociale che mi ha insegnato il bride che mi ha assistito nel mi ha fatto un corso di mobilità e ho imparato a usare il bastone bianco anche se mi vergogniamo usare il bastone bianco all'inizio poi è diventato veramente molto molto utile mi sono accorta che mi sentivo una specie di mosè quando si aprivano le acque quando usavo le prime volte il bastone bianco nella città di roma perché veramente la gente si spostava e mi lasciava passare e riuscivo a sentire gli ostacoli e riuscivo a sentirmi un po più indipendente quindi ognuno di noi ha qualche cosa da imparare ma dobbiamo ricordarci che abbiamo un'associazione di pazienti mitocon da un paio d'anni mitocon organizza quelli che si chiamano gli spazi rari mitocon erano nati inizialmente proprio come gli spazi lever dove i pazienti si potevano incontrare insieme agli esperti e ricordo che per la prima volta abbiamo invitato anche quattro rappresentanti dell'unione italiana dei cecchi di lipovedenti che sono venuti a roma a parlare alla ai pazienti affetti da queste malattie e i nostri grandi esperti in giro per l'italia e da spazi lever sono diventati spazi mitocon e ora li chiamiamo spazi rari dove una volta al mese ci incontriamo sono divisi in tre gruppi gli spazi eh i genitori di bambini affetti da malattie mitocondriali eh gli adulti affetti da malattie mitocondriali e pazienti affetti da malattie mitocondriali della vista sono gruppi bellissimi dove possiamo interagire gli uni con gli altri possiamo sentirci strani finché vogliamo possiamo sentirci come se venissimo da altri pianeti non vediamo non vediamo buio non non vediamo come altre persone affette da disabilità visiva ma possiamo eh condividere le nostre sensazioni insieme agli altri e possiamo forse sentirci un pochino più normali quindi mh questa è un pochino la mia testimonianza di oggi come rappresentante dei pazienti e dopo di me parlerà il professor Cruciani che invece darà una una prospettiva un pochino più eh dal punto di vista legale ora lascio che Valentina prenda un attimino la parola. Grazie Pauraman l'hai già presentato tu e quindi io non faccio che passargli la la parola al professor Cruciani. Sì eh buonasera a tutti devo fare una piccola rettifica ma avete presentato come responsabile della sapienza del policlinico da un po' di tempo sono in pensione anche se eh sono rimasto un po' all'università però la parte assistenziale l'ho lasciata questo per precisare e lo dovevo. Allora noi affrontiamo quelle che sono le problematiche medico legale della disabilità visiva. Sapete che è diventato un problema di estrema attualità non in questi ultimi anni ma ormai sono anni e anni che eh si continua a parlare dei cosiddetti falsi ciechi in una maniera terribile da da gente inesperta ma purtroppo che non conosce le problematiche queste problematiche di cui parlava poco fa anche Paola di questi problemi reali e purtroppo queste persone inesperte stanno anche all'interno di delle persone che dovrebbero essere invece molto esperte di queste problematiche e devo dire che spesso ecco anche un attacco a questi cosiddetti falsi ciechi che proviene proprio dal mondo oculistico da molti miei colleghi. Allora cerchiamo un po' di di fare ordine in questo in questa problematica così complessa. Innanzitutto vediamo un pochino che cos'è la visione, la funzione visiva perché anche qui che sembra normale che tutti debbano avere così le le idee molto chiare invece non è proprio così. Normalmente anche all'interno degli dei medici capita di ascoltare che se uno vede bene se ha un visus buono o dieci decimi o un'ottima funzione visiva. Questo non è vero assolutamente perché quando noi parliamo di funzione visiva di visione di vista noi dobbiamo prendere in considerazione tante variabili e sono variabili complesse, difficili anche da definire e da soprattutto da quantificare. Ce ne sono due di fondamentale importanza che sono il visus o acutezza visiva o visione centrale e la seconda è il campo visivo. Lo spiego in poche parole che cosa significa. La visione centrale, il visus, è la capacità dell'occhio di riconoscere i particolari di un oggetto che si sta fissando. È solo questo. Quindi presuppone che io vada a fissare l'oggetto che voglio riconoscere. Se voglio riconoscere una lettera la devo fissare e devo puntare il mio sguardo su quella lettera, su quell'oggetto. Questa visione centrale ha un suo recettore specifico che si chiama il cono che è collegato con degli assoni che portano il messaggio direttamente alla corteccia cerebrale, al cervello, perché sapete il cervello che vede. Quindi c'è un percorso tutto suo, sia nel recettore che recepisce il messaggio, la luce, e sia nella via che lo trasmette. Ed è indipendente dal recettore della visione periferica. Che cos'è il campo visivo? Il campo visivo non è altro che tutto lo spazio che io riesco a controllare nel momento in cui fisso un oggetto. Quindi io devo fissare un determinato oggetto e lo spazio che vedo in alto, in basso, a destra, a sinistra è il campo visivo. C'è un recettore particolare e una via particolare che porta il messaggio al cervello. Le due vie, le due visioni sono chiaramente connesse fra di loro, non dico che non lo siano, però sono indipendenti. Tanto è vero che ci può essere una malattia che mi fa perdere completamente la visione centrale, ma mi preserva abbastanza bene il campo visivo. Viceversa, ci sono delle malattie che mi distruggono il campo visivo, ma mi conserva la visione centrale. Allora che succedeva? Che succede? Che se io considero solo la visione centrale e c'ho un soggetto che ha magari otto, nove, dieci decimi di visione centrale, ma ha perso il campo visivo, quella persona chiaramente non è né autonoma né riesce a orientarsi nello spazio ed è, lo dobbiamo considerare come uno che ha perso quasi totalmente la sua funzione visiva. Quindi noi abbiamo questi due parametri fondamentali, ma non sono gli unici. Purtroppo la legge, e poi lo vediamo, ci considera solo questi due variabili, questi due aspetti della visione. Non considera gli altri aspetti, gli altri parametri, che sono tantissimi altri, no, tantissimi no, però sono altri. Per esempio la sensibilità al contrasto. Cioè io riconosco bene un oggetto se c'è contrasto. Se io metto, scrivo su una lavagna chiara, con una penna bianca, chiaramente gli alunni non riusciranno mai a leggerle. Ci vuole un contrasto, bianco-nero per fare un esempio. Ecco, quindi anche questa è una variabile molto importante. Poi c'è il senso cromatico, la capacità di distinguere i colori. I vecchi oculisti davano al senso cromatico un'importanza molto grande, oggi lo trascuriamo un po', però è anche questa una variabile da non dimenticare. E poi c'è il senso luminoso. Che cos'è il senso luminoso? La capacità di adattarsi a tutte le luminosità. Tenete presente una luminosità che c'è a mezzogiorno di ferragosto. Siamo sui 60-70 lux, c'è una quantità di luce enorme. E pensate invece alla quantità di luce che avete al crepuscolo, oppure che avete in una stanza un po' buia, poco illuminata. Ci sono, e lì scendiamo da 60.000 a 2.000. Capite che differenza che c'è? E uno può perdere anche questo senso luminoso. Cioè avere magari con tanta luce una buona luminosità, ma appena c'è il crepuscolo e viene la sera perde quasi completamente la sua visione. E spesso perde anche l'adattamento alle basse luminosità o alle alte luminosità. Quindi poi c'è anche la stereopsi, la visione binoculare, che è fondamentale. Se io per esempio ho una diplopia, una visione doppia, io ho una invalidità incredibile, ho una confusione visiva da far paura pur avendo dieci decimi in tutti gli occhi. Quindi capite, ecco, non vado oltre, che le funzioni visive sono molteplici. E praticamente queste funzioni visive poi sono molto complesse. Noi abbiamo difficoltà a quantificarle. Cioè se uno ha una perdita di qualcuna di queste variabili, anche parlo della visione centrale del campo visivo, noi, nonostante i progressi che oggi sono stati fatti dalla tecnologia, dalle scoperte, noi ci basiamo ancora sulle scoperte fatte alla fine dell'Ottocento. Misuriamo la vista all'incirca come la misuravano i nostri antenati. Anche il campo visivo, sì, l'abbiamo computerizzato, ma il modo di farlo non è che è cambiato molto, ma soprattutto qual è il problema enorme di queste? Che sono variabili che noi valutiamo attraverso dei test psicofisici. Che vuol dire? Vuol dire che ci vuole la partecipazione piena, attenta, dell'esaminato. Ci vuole anche un'attenzione molto forte dell'esaminatore e interferiscono poi tutta una serie di variabili ambientali e anche psicologiche. Pensate, per esempio, a molti di voi, di quelli che mi ascoltano, tantissimi hanno fatto il campo visivo, oppure hanno fatto la misurazione della vista. Cioè, ci hanno tante difficoltà, tantissime. C'è la difficoltà di apprendere il test, di ripeterlo. È richiesta una concentrazione non indifferente, che stanca tantissimo. Ecco, sono pertanto delle funzioni che noi stendiamo a quantificarle. Purtroppo la legge ci impone dei paletti netti, molto netti, in maniera quasi assurda, perché se io non riesco a quantificare bene una cosa, è inutile che mi metti un limite netto, stretto. Faccio un esempio particolare. Il limite tra ipovisione e cecità in tutto il mondo è il cosiddetto un ventesimo. Oddio, questa frazione che non si capisce che voglia dire. Vuol dire semplicemente che quel soggetto riconosce a un metro quello, un simbolo, una lettera, che se fosse normale dovrebbe riconoscere a 20 metri. Quindi riconosce a un metro quello che dovrebbe riconoscere a 20 metri. Questo voglio dire. Ma questo limite, questo limite così netto, in pratica, non è realizzabile. Perché? Perché basta che io sposto di qualche centimetro in avanti o indietro quel soggetto che lui entra in una categoria o in un'altra. È chiaro che poi in tutto questo ci vuole la collaborazione del soggetto, una massima attenzione dell'esaminatore e tutte le variabili ambientali che possano interferire. Capite pertanto che il problema è, a punto di vista medico-legale, estremamente complesso. Ora, noi, in passato, ci siamo impegnati a fare approvare una legge che voi conoscete, che è la 138 del 2001. È una legge che doveva, si proponeva, in tutte le maniere, di superare un grosso limite che c'era prima. E qual era il grosso limite che c'era prima? Che le leggi non consideravano o consideravano pochissimo l'importanza del campo visivo. Praticamente la legge diceva sei cieco, sei la visione centrale, l'hai persa. Poi il campo visivo, no, ma non sei più disabile visivo se hai perso parte del campo visivo, ma hai conservato la visione centrale. Quindi c'era l'impegno di far sì che il campo visivo entrasse nella legislazione con pieno diritto e con tutta la sua importanza. perché vi dico una cosa, è molto più invalido il soggetto che ha perso tutto il campo visivo e quindi ha perso l'orientamento e mobilità rispetto al soggetto che ha perso la visione centrale. Cioè, quello che ha la retinite pigmentosa molto avanzata è più disabile rispetto a quello che ha perso la visione centrale. Allora, davanti, questo per dirvi l'importanza di fare questa legge e questa legge fu approvata al termine di una legislatura. Fu una legge che grazie all'intervento anche dell'Unione Italiana Ciechi e l'impegno anche di alcuni oculisti fu portata avanti. Il legislatore dimisse subito le mani avanti e disse sì, la possiamo accettare questa legge però attenzione non deve modificare assolutamente quello che è il comparto dei benefici cioè approviamo questa legge come una una nuova classificazione però tutto deve essere immutato per quanto riguarda l'elargizione e il riconoscimento dei vari benefici. Allora, la legge effettivamente fu poi fu approvata e questa legge che bene o male conoscete è avuto praticamente un grosso vantaggio. Qual è il grosso vantaggio? Il grosso vantaggio è quello che vi dicevo prima di aver introdotto il campo la perdita del campo visivo e la legge questo bisognava in qualche maniera classificarlo ma mentre per la visione centrale noi avevamo una classificazione molto rozza qual è quella del del visus i famosi decimi che noi abbiamo che utilizziamo normalmente per il campo visivo non avevamo una formula che potesse combentiare quelle che erano i deficit del campo visivo quindi era necessario anche introdurre un qualcosa una quantificazione un numero una percentuale un qualcosa che potesse semplificare questa perdita e fu introdotto il campo visivo percentuale cioè se io ho un campo visivo di 100 in condizioni normali ecco valuto la percentuale del residuo visivo che mi è rimasto quindi vado a cercare quello che ho perso e in questo chiaramente la scuola di Genova che si occupava di perimetria si impegnò molto e propose la classificazione del CV percentuale che molti di voi che mi ascoltano conoscono abbiamo impiegato anni anche con l'Unione Italiana di Ciechi a far sì che questo metodo fosse accettato dagli oculisti abbiamo avuto tante difficoltà a farlo accettare perché non c'era la mentalità il campo visivo veniva sempre studiato come perdita come danno di certe malattie come soprattutto del glaucoma di tutte le otticopatie e quindi si valutava un occhio alla volta l'occhio destro e l'occhio sinistro e invece in questo caso bisognava avere invece la visione binoculare cioè la perdita del campo visivo come binaculare perché perché io posso aver perso una parte dell'occhio destro che può venirmi benissimo compensato dall'occhio sinistro quindi in termini di disabilità come danno sì andava valutato ma come disabilità chiaramente era inferiore quindi avevamo bisogno di un campo visivo binoculare quindi la legge praticamente che cosa prendeva quindi in considerazione sono queste due variabili acutezza visiva e campo visivo tutte le altre variabili che vi ho detto prima non sono non sono prese in considerazione quindi quando io devo fare una certificazione in base alla per stabilire il residuo di una funzione visiva chiaramente prendo in considerazione secondo la legge dovrei prendere queste qui le altre non anche se le introduco però la legge 138 per la disabilità visiva non me lo chiede ma c'è ancora di più secondo me anche più ancora grave che sul momento a noi ci interessava ottenere qualcosa non si pensava poi che bisognava lavorare e migliorare la legge ecco questo poi in questi vent'anni che sono passati non è stato fatto non si è fatto niente per migliorare quella legge e qual è un altro aspetto che complica le cose la diagnosi cioè la legge non mi dice se io sono affetto da una cataratta o da un glaucoma non lo vuole cioè sì nel certificato lo devo mettere la diagnosi però ai fini della valutazione quello che conta è il residuo visivo per ottenere dei benefici non è che se io sono glaucomatoso ottengo di più e se ho la cataratta ottengo di meno no ai fini poi della valutazione vale soltanto quanto io riesco a quantificare il visus e il campo visivo e poi sul campo visivo è stato fatto cioè bisognava mettere dei parametri e per la cecità assoluta è stato fatto quel parametro che doveva essere il campo visivo inferiore al 3% quindi su 100 punti che io gli proietto ne deve vedere solo 2 e questo da un punto di vista clinico anche scientifico è un'assurdità non ha senso non e poi un altro limite grande di questa legge qual è? è che non mi considera le forme miste non è che esiste solo il cieco che ha perso la visione centrale e quello che ha perso la visione periferica no questa è una semplificazione che noi facciamo prima dicevo sì sono indipendenti ma sono anche strettamente connessi ci sono poi tutte le patologie che colpiscono sia la visione centrale che la visione periferica non per niente oggi parliamo della Leber non per niente c'è la retinopatia diabetica c'è il glaucoma ma anche la stessa retinite pigmentosa poi colpisce la visione centrale quindi non mi considera le cosiddette forme miste che sono la maggior parte quindi capite che stiamo affrontando un argomento molto complesso che per esigenze di estrema semplificazione crea delle criticità incredibili pazzesche allora qual è il percorso che un soggetto che ha perso la sua integrità anatomo funzionale visiva secondo l'OMS secondo anche la nostra legislazione deve seguire le tappe sono tre la prima è la quantificazione della menomazione anatomo funzionale quindi sia da un punto di vista anatomico che da un punto di vista funzionale che e chi è a chi spetta questo compito di certificazione spetta al medico oculista all'oftalmologo l'oftalmologo deve semplicemente certificare la menomazione anatomo funzionale non deve assolutamente dare giudizi su quella che è la perdita delle capacità del soggetto non è che è l'oftalmologo da cui uno va gli dice tu sei cieco no quello non spetta a lui lui deve semplicemente quantificare poi chi stabilisce quali sono le perdite delle capacità visive è la commissione in questo caso dato che parliamo di invalidità e di cecità civile è la commissione dell'Inps che stabilisce quali sono le perdite delle capacità che vengono perse da quel soggetto le capacità visive chiaramente sono tante per esempio faccio attività ricorrenti nella vita quotidiana la capacità di accudire a se stesse le attività domestiche la capacità di svolgere attività domestiche la capacità di muoversi con autonomia il poter comunicare con con l'ambiente gli svaghi il tempo libero eccetera queste tutte le aspirazioni di un soggetto importante tutte queste che sono le capacità visive che sapete che poi secondo l'ultima classificazione dell'OMS vengono chiamate abilità eliminando quel brutto termine di disabilità perché qualcuno dice ma queste sono solo così delle attività delle concezioni così politicamente corrette sono delle indicazioni così semplicemente politicamente correte no dietro c'è tutto un messaggio che ci manda l'OMS nel senso che io quando c'ho un soggetto che ha perso parte della sua capacità visiva non devo star a guardare quello che ha perso ai fini della riabilitazione ma devo valutare quello che è il residuo quindi più che parlare di disabilità devo parlare di abilità residue e così invece di parlare di handicap devo parlare di partecipazione e questo è quello che ci dice l'OMS secondo l'ultima classificazione quindi praticamente quando ritornando alla legge chi deve stabilire quantificare la perdita sia della visione centrale che della visione periferica è praticamente l'oftalmologo che deve farmi la certificazione ora è chiaro l'oftalmologo nel fare questo dovrebbe chiaramente comprendere e analizzare anche tutte le altre diciamo funzioni parametri della visione centrale anche se non sono richiesti però oggi si è creato un clima tale in questo contesto ormai il disabile visivo è stato messo alla gogna per cui si è creato il terrore il terrore da parte dell'oculista che deve certificare che ha paura di trovarsi in tribunale da parte del 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 soggetto che non sa se ci rientra o non ci rientra e chiaramente avendo delle grandi difficoltà vorrebbe che la sua disabilità fosse considerata appieno dall'altra parte devo fare anche delle osservazioni a tanti patronati a tutto quel mondo che gira intorno alla disabilità cioè loro non è che devono spingere assolutamente devono considerare anche quello che dice la legge perché perché purtroppo noi questa legge o la cambiamo però allo stato attuale la dobbiamo applicare ripeto è una legge assurda io ho faticato tantissimo Paola lo sa sono andato spesso ad aiutare tante persone disabili visivi e trascinati in tribunali e ci sono andato ma ho faticato tantissimo a convincere a convincere chi? a convincere i miei colleghi che facevano i CTU ed erano andavano pesantemente dicendo guardando i filmati dicendo no questo non è cieco cioè delle assurdità incredibili come tenete presente che normalmente nella formazione dell'oculista tutto quello che è la tifologia la riabilitazione visiva non figura allo stato attuale ancora non c'è comincia adesso qualcosa a farsi ma io ho contestato in tribunale a dire che il CTU in quanto oculista non è che lui conosceva perfettamente il mondo della disabilità visiva non era la persona l'esperto non plus ultra che poteva giudicare come si muove un disabile visivo non ne ha la formazione non ne ha spesso la competenza e via dicendo quindi capite che le problematiche sono tante allora che cosa c'è da fare c'è da fare da impegnarsi per far sì che questa legge che apportò al suo tempo delle innovazioni molto importanti continui venga rivista e oggi come oggi questa legge venga migliorata venga e c'è la disponibilità di tutti credo c'è la disponibilità del mondo oftalmologico almeno mi auguro c'è la disponibilità dell'Unione Italiana dei Ciechi che chiaramente in questo ha un peso molto importante e devo dire che c'è anche la disponibilità dell'Ibs anche se l'Ibs non si capisce perché poi si è terribilmente accanita su questi disabili visivi trascinati in tribunale io mi scuso se sono stato un po' troppo lungo credo che mi posso fermare così poi se qualcuno mi vuole fare delle domande volentieri rispondo grazie mille professor Cuceni è stato chiarissimo è veramente un intervento molto molto interessante grazie a tutti